Il comune di Prato ha consegnato il gigliato d'argento ad Andrea Guarducci, il 47enne pratese che sabato scorso ha rincorso e braccato un magrebino che pochi minuti prima aveva rubato un profumo all'interno di una profumeria in via Ricasoli nel pieno centro di Prato. Guarducci, istruttore di arti marziali, non si sente un eroe, anzi. Il sabato mattina ero, insieme alla mia famiglia, come normalmente passo il sabato mattina, ero uscito fuori da fare colazione, mi trovavo nei pressi di Piazza del Comune e ho sentito una signora che gridava e mi è rimasto impresso la frase «Nessuno lo ferma» e nel girarmi ho visto una persona che stava scappando, non so con ben che cosa in mano, allorché quando la persona ha visto che lo avevo incrociato con gli occhi ha aumentato l'andatura e non ci ho pensato due volte e gli sono corso dietro. Gli sono corso dietro, è stata una corsa fino a via dell'accademia dove poi insieme a me sono sopraggiunti altre persone e la persona poi ha desistito, si è arresa, allorché poi dopo le persone che erano vicine si sono rivalati degli agenti di polizia, a quel punto lì l'ho salutato e sono tornato alla mia famiglia. Un gesto premiato significa che non è un gesto comune? Vorrei che questo appartenesse a tutta la città di Prato in maniera da potersi riprendere un pochino la nostra città. Perché ha deciso di premiare questo cittadino? Innanzitutto per il dovere civico mostrato in occasione della vicenda. Io mi auguro che, non chiedo che lo facciano tutti, però che il cittadino dopo quello che ha fatto Andrea nella circostanza di sabato possa essere da stimolo e da sprone, cioè a collaborare con le forze di polizia. Perché anche con una segnalazione, non avere un atteggiamento omertoso, significa fare un gesto come ha fatto Andrea Guarducci.